Noi come Federalberghi Terme abbiamo fatto questa associazione staccandoci dall'unica associazione di categoria della Federterme perché il fango di Ischia e il fango di Abbano che è con noi in questa nuova avventura nella Federalberghi Terme sono gli unici fanghi certificati con un brevetto europeo per la maturazione, per il procedimento di maturazione. Noi a Ischia siamo stati molto aiutati dalla nostra ASL che ci è stata vicino e ci ha aiutato soprattutto nel comporre questo nuovo protocollo di maturazione ed è una cosa molto importante e noi per far conoscere i benefici di questo fango particolare che ripeto hanno esclusivamente Ischia ed Abbano e noi stiamo cercando di aggregare nuove realtà termali per diffondere questo protocollo terapeutico di maturazione del fango noi adesso stiamo facendo un protocollo con i medici di medicina generale per poter innanzitutto come si è detto anche in sala prima far conoscere ai medici di medicina generale che cosa è il termalismo perché venendo via meno tutte le scuole di specializzazione in climatologia e termalismo purtroppo molto spesso il medico che deve prescrivere la ricetta non sa di che cosa stiamo parlando per cui abbiamo fatto questo accordo con i medici di medicina generale che loro ci formeranno sia i direttori sanitari e sia i medici di medicina che devono poi prescrivere le ricette non solo ma noi stiamo predisponendo un nuovo protocollo terapeutico che comprenda sana alimentazione, movimento, corretti stili di vita proprio per poter arrivare alla prevenzione primaria e secondaria di quelle malattie invalidanti che sono poi la causa di morte maggiore in Europa come ha stabilito l'OMS grazie grazie